Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più che noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli miglior esempio, per apprendere ad avere coraggio. Sì, è questo. Essere madre o padre è il più grande atto di coraggio che si possa fare, perché significa esporsi ad un altro tipo di dolore, il dolore dell'incertezza di stare agendo correttamente e della paura di perdere qualcuno tanto amato. Perdere? Come? Non è nostro. È stato solo un prestito, il più grande e meraviglioso prestito. Siccome i figli sono nostri solamente quando non possono prendersi cura di se stessi, dopo appartengono alla vita, al destino e alle loro proprie famiglie. Dio benedica sempre i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con loro.